Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, venerdì 15 novembre. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Sono le 7 e siamo in diretta sul canale 17 di FanoTV per leggere e sfogliare i giornali. Ne abbiamo due, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Tra poco li vedremo. Prima, come sempre, il Santo del Giorno e poi le previsioni del tempo, perché il tempo cambia, arriva di nuovo un peggioramento e quindi la pioggia. Ma con ordine, vediamo il Santo di oggi. Il Santo è Sant'Alberto Magno. Nacque in Germania verso il 1200 e allora facciamo gli auguri di buono nomastico a tutti coloro che portano questo nome. Il sole è sorto adesso, quindi se vi affacciate dalla finestra dovreste vedere il sole che sorge. E alle 16.44 tramonterà. Ma il cielo, il cielo oggi sarà nuvoloso con pioggia e quindi niente tramonto. Dalla tarda mattinata infatti avremo rovescio temporali nelle zone appenniniche centro-settentrionali, ma in estensione al resto del territorio nel corso del pomeriggio. Attenzione perché i fenomeni saranno anche localmente di forte intensità. Per quanto riguarda i venti, soffieranno da sud, ecco perché le temperature saranno comunque in aumento nei valori massimi. Ma avremo raffiche fino a tempesta nelle zone interne della nostra regione, Mentre saranno fino a Burrasca lungo la costa. Fino a Burrasca, tanto per intenderci, è già un bel vento che soffia forte. Quindi attenzione, il mare sarà mosso e molto mosso soprattutto nel pomeriggio, quando si alzerà questo vento impetuoso. Per la giornata di sabato, domani, ancora tempo brutto, diffuse precipitazioni a prevalente carattere di rovescio di temporale, con fenomeni anche domani localmente intensi, diminuzione delle temperature per domani. I venti saranno ancora fino a Burrasca, si rafforzeranno soprattutto nel pomeriggio. E sarà più fresco perché arriverà questo vento da nord-est, cambierà, girerà il vento. Il mare sarà molto mosso. Domenica che cosa ci attende? Una giornata di sole sulla parte settentrionale, con qualche nuvola. E poi precipitazioni sparse, soprattutto al mattino, ma precipitazioni che andranno ad esaurirsi nel corso della giornata. Vedete ancora qualche temporale sui Sibillini. I venti ancora dai quadranti occidentali saranno moderati, ma comunque in diminuzione rispetto alla giornata di sabato. Che cosa ci attende per la domenica? Un temporaneo miglioramento, ma da lunedì poi tornerà il tempo brutto. Insomma, anche il tempo sta facendo quello che in teoria si fa durante l'autunno, con le prime piogge, con le prime foschie, eccetera, eccetera. Adesso andiamo invece a vedere i giornali. Cominciamo, come facciamo sempre, con il Corriere Adriatico. Questa è l'apertura delle edizioni di Pesaro, ma in realtà il Corriere questa mattina ha deciso di aprire tutte le edizioni con questo titolo. Regalo di Natale. In che senso? Il Ministero ha confermato che il tratto dell'autostrada a 14 da Pedaso a Pescara resterà ad una sola corsia anche nel mese di dicembre. Potete immaginare dunque con la gente che si sposta per le vacanze natalizie che cosa potrà essere in quel tratto di strada. O qualcuno interviene, scrive il giornale, oppure per le marche sarà l'inferno. Ecco perché ha deciso di praticamente dedicare l'apertura a tutte le edizioni su questo aspetto della viabilità, che sarà comunque, secondo le previsioni del quotidiano, sarà difficile, soprattutto per gli automobilisti. Fine cantiere per le barriere solo nel 2021. La speranza delle paratie provvisorie, l'unica speranza per un Natale con meno traffico e smog a tutto spiano, è il dissequestro. E autostrada a quel punto potrebbe garantire la sicurezza con delle paratie provvisorie. Questa invece è l'edizione di Pesaro del resto del Carlino. A centropagina c'è la fotografia di questo pesarese che è riuscito a trovare in Olanda, il SUV, la sua macchina, che aveva acquistato in Italia. Beffati i truffatori, questo è il titolo. Poi sulla ruota panoramica sarà posizionato il largo Aldomoro, a Pesaro, e si smonterà subito praticamente. Cioè appena finita, appena se ne va la Befana, subito bisognerà smontare tutto quanto. Quindi è davvero a tempo determinato. In centro ancora tanti spacciatori e l'opposizione accusa. Ma c'è anche la cronaca, lo vedremo tra poco. Una tragedia si capovolge con l'auto e finisce nel fosso, muore a 22 anni. E questa invece è la pagina del Carlino di Ancona, ladri sfrontati. Lo dico sempre purtroppo quando siamo nel mese di novembre, ma perché semplicemente, me l'aveva detto un comandante che è passato di qui a Fano della compagnia, parlando del più e del meno, si diceva che il mese di novembre purtroppo è un mese in cui i ladri si danno da fare. Perché? Perché anche loro tengono famiglia e quindi hanno bisogno di soldi e quindi essendoci le feste natalizie, nonché loro, hanno bisogno di guadagnare qualche cosa illegalmente, chiaramente, ovvio, e quindi c'è un'escalation dei furti che si registra proprio nel mese di novembre. E così è anche quest'anno. Casa svaliggiata, questa è la cronaca di Ancona, in pieno giorno, furto in un bar blindato. Il titolo, appunto, l'abbiamo visto. Mentre a Macerata, ancora, c'è lo stato d'emergenza, nuove mareggiate, nuove mareggiate in arrivo, porto recanati senza pace. Questa è una foto che spiega più di qualsiasi altro titolo. E anche Fano si sta leccando le ferite di questa mareggiata, che non è stata la prima, non sarà l'ultima. Sassonia, l'allarme non è cessato, un'altra mareggiata in arrivo sabato notte. I bagnini però dicono questa, qui perdiamo la spiaggia, qualcuno deve muoversi. A Sassonia Nord si preparano, infatti, ad affrontare un'altra notte tra sabato e domenica, l'abbiamo appena visto nelle previsioni del tempo, una nottata di mare grosso e onde alte più di due metri. Lo vede, dice Iride Gabbianelli, che è in questa fotografia pubblicata sul giornale questa mattina, e che è la titolare di Bagni Maurizio in Sassonia, lo vede. Io la scorsa estate avevo solo quattro file di ombrelloni, non posso perdere altro arenile. In Comune si prendano la responsabilità e trovino la soluzione. E qui ci sono altre fotografie con gente che sulla spiaggia ha investito soldi e salute. Con Fartigianato, Lega e Rapa, il Comune usi quei 200 mila euro per realizzare le scogliere. Poi c'è la notizia anche del Beato Antonio, che è stato dissequestrato. Il suo ferretro, il ferretro che ricorderete, era sistemato all'interno di una bara, dentro, in un muro, all'interno della mesiva, insomma, di Santa Maria Nuova. Ebbene, la procura ha disposto il dissequestro della salma. Il ferretro di zinco, dentro il quale si presume siano conservate le reliquie del francescano del XV secolo, dovrebbe essere trasferito il 4 dicembre al cimitero dell'Uluivo, dove si effettuerà l'apertura della cassa. Quindi segnate questa data. Il 4 dicembre. Tutte le procedure saranno eseguite sotto la supervisione della Polizia Locale, delegata dalla Procura della Repubblica, che avrebbe accolto così la richiesta di dissequestro avanzata dal Comune di Fano. Spiagge azzerate. Anche il Corriere Adriatico si occupa del day after, il giorno dopo la grande tempesta. Spiagge azzerate su tutto il litorale. Subito le scogliere che mancano. Fano è un virgolettato ed è attribuito all'associazione che rappresenta i concessionari di spiaggia, ovvero Oasi Confartigianato, che chiede un piano di protezione delle strutture degli stabilimenti. Mentre dal punto di vista politico, i 5 Stelle di Fano incalzano il sindaco Seri, aveva sollecitato Ceriscioli sui finanziamenti, si domandano ora i pentastellati. E sotto, addio invece a Enrico Biettini, il politico in movimento. Oggi alle 3 del pomeriggio, a San Cristoforo, i funerali. E in questo articolo c'è un commosso ricordo, aveva 83 anni. Marraggiata, si contano i danni anche a Senigallia, attivare lo stato di calamità, Corinaldesi della FIBA, siamo in allerta, Confcommercio chiede un incontro in regione, Cicconi, Massi, di una confederazione, siamo preoccupati. Al Cianin, la spiaggia, di fatto, è sparita, ma è in buona compagnia, perché praticamente da nord a sud, forse Pesaro è stata risparmiata rispetto alle altre località. Da Fano, praticamente, fino a Marina di Montemarciano, non ne parliamo. Colpito da un aneurisma, muore tre mesi dopo, l'ex speaker Gigi Trinchera aveva 59 anni, sempre a Senigallia, domani a mezzogiorno ci saranno i funerali. La pagina della Valle del Metauro si addormenta sull'autobus e si risveglia da sola al deposito. La storia non è banale, se ne sta parlando sui social, è la storia di una tredicenne di Fano, che frequenta una scuola ad Urbino e che si sposta con l'autobus. Al ritorno, dopo Lucrezia, si addormenta e si risveglia praticamente nell'autobus vuoto al Capolinea. È un po' l'incubo di tutti, chi ha viaggiato sui mezzi di trasporto a qualsiasi età è l'incubo di ciascuno. Siamo stanchi, spesso l'occasione per chiudere gli occhi sia in treno che in autobus, poi ci si risveglia e il terrore di non avere nessuno attorno e di non sapere dove essere finiti. E questo è successo a questa ragazzina di 13 anni. Per fortuna il custode, il deposito, si era accorto della sua presenza, nemmeno l'autista, proprio il custode, ed è stato lui ad accompagnarla alla fermata dove doveva scendere. Poverina, sta ragazza era stanca per lo studio e quindi si è addormentata. Schianto sulla complanare, ci sono dei feriti, questo è il Carlino di Senigallia, dopo il violento impatto due persone sono state portate in ospedale in gravi condizioni, il traffico è in tilt, uno scontro frontale dove un 59enne senigallese è stato ricoverato in prognosi riservata. Questa è la fotografia del terribile incidente che è avvenuto ieri mattina appunto in A14. E un altro scontro, un altro incidente da registrare nella giornata di ieri, dove ha perso la vita un 22enne, Giacomo Donati Clark, stava andando nell'agriturismo della madre in provincia di Siena. La famiglia materna è di mercatello sul Metauro e tutto il paese piange la scomparsa di Giacomo. 22 anni vittima di questo incidente Donati è stato trovato dopo due giorni e mezzo di ricerche, privo di vita a bordo della sua auto che era uscita di strada ed era finita capovolgendosi in un fosso sotto la provinciale 99 al Bivio tra Orgia e Monte Stigliano. Siamo in provincia di Siena e il giovane era partito nella mattinata di lunedì da Firenze, dove aveva dovuto raggiungere appunto l'agriturismo di famiglia. Le origini sono però appunto pesaresi. Andiamo un attimo a Falconara per... Guardate questa fotografia di quest'autocisterna che è esplosa. Probabilmente l'esplosione è stata causata dai gas di risulta rimasti nel mezzo dei trasporti di carburanti. A volte purtroppo succede. È successo però ieri intorno alle 4 e mezzo del pomeriggio un forte boato che ha scosso un pomeriggio falconarese come tanti. Ed è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita, un 48enne albanese che era alla guida di questa cisterna per fortuna vuoto. Il botto da gas sul piazzale della ditta CAF. Da Pesaro all'Olanda per riprendersi invece il SUV. È la storia di questo uomo, un informatico che ha pagato 34 mila euro per questa Evoque che la concessionaria però non gli consegna. Lui però alla fine riesce a riportarlo a casa. Ci sono tutti i dettagli con le tappe. La prima ovviamente è quella dell'acquisto. La prima tappa 34 mila euro per comprare questo SUV. Però quasi subito scopre la truffa. L'auto è stata rintracciata a Brescia e posta sotto sequestro in una seconda concessionaria rubata anche da quella, dalla stessa banda. L'auto viene rivenduta in Austria a un olandese che la porta poi in Olanda. L'ultima fase è quella dell'ottobre del 2019, quindi poche settimane fa. Il cliente pesarese va in Olanda e con il permesso della polizia olandese la riporta in Italia. Tutti i dettagli ovviamente li troverete sul giornale di questa mattina. A Urbino invece festa, commozione per Mario Logli che è andato a Urbino. e la città lo ha celebrato con un consiglio comunale solenne a Palazzo Ducale per il conferimento della cittadinanza onoraria a questo artista che difende la bellezza. L'Ogli, eccolo qua, insieme a Vilberto Stocchi, al rettore dell'università, e Peter Aufreiter. E questa è la pagina di Urbino e questo è il quadro praticamente che è stato donato alla città. Ucchielli invece inventa un altro evento, una mostra per olio e tartufo. Come vedremo poi tra poco si unirà in compagnia a Cagli, perché anche Cagli ha deciso di organizzare la sua fiera del tartufo. Quindi insomma diventerà una provincia al tartufo. Ucchielli inventa un altro evento, dicevo, si svolgerà prima di Natale con stand e banchetti nel centro di Via Pia o la Torre. E questo è l'articolo che spiega un po' com'è, qual è l'idea del sindaco di Vallefoglia. Ceriscioli invece, e qui siamo a Mondolfo, abbiamo investito negli ospedali della provincia, dice il Presidente della Regione per la costituente delle idee del partito che si è svolta appunto a Mondolfo. Secondo il responsabile della Sanità, alle Marche manca un miliardo, mentre Minardi esalta il turismo. Maxi Schianto con quattro feriti, uno è grave, successo nel tardo pomeriggio di ieri lungo la 424 Pergolese, proprio al confine tra la città dei Bronzi Dorati e San Lorenzo in campo. Quattro, le autovetture coinvolte e strada chiusa per oltre due ore, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo grave. Il sinistro è accaduto poco prima delle 18 del pomeriggio. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Ecco qua, dicevamo della Fiera del Tartufo, Cagli avrà la sua di festa, di fiera, vista la buona produzione locale. Da quest'anno nasce un nuovo brand del territorio. Cagli così avrà anche la sua manifestazione legata al prodotto più prospero nelle sue campagne, cioè il tartufo. Ogni anno dall'ampio territorio comunale, il quarto delle Marche, dai vecchi e nuovi tartufai, vengono estratti quintali di tuberi da terreni molto vocati alla propagazione di questo fungo ipogeo. Quindi, considerando che vicino c'è Acqualagna, che è la capitale del tartufo, insieme ad Alba, comunque sta posizionata piuttosto in alto in classifica a livello nazionale, però Cagli non sfigurerà sicuramente in questo caso, perché appunto, come si diceva nell'attacco di questo articolo, ha dei terreni molto vocati e quindi ci sono possibilità che insomma anche Cagli possa avere una bella manifestazione. Quando? Il 23-24 novembre, più o meno, questo dovrebbe essere il periodo. C'è la cronaca sul Corriere Adriatico che riguarda i furti nelle abitazioni. E purtroppo aumentano in questo periodo. Coppia esce di casa per fare la spesa, quindi roba di poco, tipo mezz'ora, 19.15, 19.45, infatti nel quartiere di Pantano a Pesaro è successo proprio ieri intorno a quest'ora, in questo frangente, ma ad operare è stata una banda di ladri organizzatissima, perché sapeva già dove andare, cosa fare, sapeva evidentemente che c'era una cassaforte all'interno di questa abitazione e dunque sono entrati, hanno divelto la cassaforte grazie anche a una smerigliatrice che avevano portato e dentro hanno arraffato tutto quello che c'era, gioielli, bracciali, collane, tutto per un valore che si aggira intorno ai 5.000 euro, ma tutto da quantificare. E questo è avvenuto, questo fatto, questa razzia, semplicemente il giorno dopo un altro colpo molto simile a quello di ieri, con dei ladri, ripeto, professionisti in azione, in Viale Cesare Battisti più o meno la storia è stata la stessa, sono entrati all'interno di questa abitazione di due coniugi sessantenni, i ladri si sarebbero addirittura arrampicati tramite la grondai esterna fino al secondo piano della palazzina, siamo nella zona del mare, sempre a Pesaro, e qui hanno arraffato tutto quello che c'era, all'interno gioielli, ma anche buoni postali, per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Sul Corriere di questa mattina, anche, sempre sulla pagina di Pesaro, la vicenda che vede coinvolta una coppia, marito e moglie, di cui lui, poliziotto, tra l'altro sospeso dal servizio, che ha spillato un qualcosa come 50.000 euro a una donna anziana. è finito a processo, ovviamente, insieme alla moglie, ora la coppia dovrà rispondere di circonvenzione di incapace, è stata una vicenda oltre che brutta, triste, ma anche dalla ricostruzione piuttosto complessa. Comunque, l'intero importo è stato prelevato con il banco, metto in uso alla coppia, in diverse circostanze, fino praticamente ad azzerare tutto il conto della povera signora. Precipita dal secondo piano è successo a Soria nella tarda mattinata di ieri in una strada residenziale del quartiere di Soria a Pesaro. Un giovane è caduto dal secondo piano della sua abitazione da un'altezza di circa 6 metri. Intorno alle 11 è scattato l'allarme in via Lucio Accio. Il giovane avrebbe aspettato di essere da solo per affacciarsi sul terrazzo e poi precipitare di sotto, un volo di circa 6 metri. Un'altezza però sufficiente per poter riportare delle serie ferite, così come è stato. Il ragazzo è stato portato al San Salvatore, dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico e dove si trova tuttora ricoverato in prognisi riservata. C'è anche la notizia di taglio basso sul Corriere di oggi di un sessantenne che è stato ritenuto responsabile di un furto, il furto di una bicicletta, anzi la ruota di una bicicletta, per questo è stato condannato a 4 mesi. La pena è stata sospesa ma l'uomo dovrà anche pagare una sanzione di 120 euro. Andiamo sulla pagina di Fano. Intanto per dire, in apertura c'è il fatto che nella guida, nell'opuscolo dell'itinerario archeologico, Fano non c'è, è assente. Nel telegiornale ve l'abbiamo spiegato, ci sarà il prossimo anno. L'itinerario provinciale è stato presentato da Confcommercio a Pestum e appunto esclude la città. La protesta di Clini dice è pazzesco, mentre Varotti mi hanno detto no. Insomma, il recupero però alla fine c'è stato, ma in corner. Il Comune, compreso nella seconda edizione, ha la borsa anche uno stand della Regione Marche. Il Brodetto invece anticipa e i Cesari slittano di sette giorni. Di cosa si parla? Di tutte le manifestazioni che ci saranno il prossimo anno a Fano. Il prossimo anno il festival sarà quello del Brodetto tra fine aprile e inizio maggio. Innanzitutto a febbraio, si parte da febbraio. E febbraio che cosa c'è? C'è ovviamente il Carnevale. Quest'anno, cioè la prossima edizione sarà il 9, il 16 e il 23 febbraio. Poi, dicevamo, con l'arrivo della primavera, oltre al Festival del Brodetto, spiccano il 17 maggio, per esempio la città da giocare, che è la principale manifestazione dedicata ai bambini. E poi, sempre nel mese di maggio, c'è anche Fanogeo. Andando di corsa, si aprirà poi la Rocca Malatestiana con tutta una serie di eventi e manifestazioni. Arriviamo in piena estate con la Fano dei Cesari spostata dal 13 al 19 di luglio. Questo per non sovrapporsi alla festa del Patrono, che come sapete tutti cade il 10 di luglio. Poi ci sarà Fanogezze, ci saranno tante altre manifestazioni. Agosto è il mese tradizionalmente dedicato all'accoglienza, alle feste, come quella del mare, il primo e il due. Poi c'è in giro per Fano l'8 di agosto la Fiera di San Bartolomeo, che poi chiude in linea di Massimo un po' le manifestazioni e gli eventi, dal 24 al 26 di agosto prossimo. Ma c'è anche il Paese dei Balocchi, sempre nel mese di agosto, dal 20 al 23. Insomma, tante altre iniziative e manifestazioni che troverete sul giornale di questa mattina. E mentre si parla sulla pagina 38 del Corriere di Festeggiamenti e Bagordi, c'è sulla pagina dopo invece, nella pagina successiva, lo spaccato e la fotografia della città che invece vive anche di povertà e di poveri. Poveri e povertà che sono in aumento. Il Vesco Trasarti dice è stato un anno difficile, sono state aiutate 752 persone in crescita, i poveri di nazionalità italiana. Ci sono anche gravi casi di separazione, di salute, di integrazione. E in tutto questo, in questo contesto sociale, la Chiesa come interviene, come dà una mano? Attraverso un istituto storico che è la Caritas. Quest'anno la Caritas di Fano ha speso per aiuti diretti e gestione dei servizi, 341 mila euro e qualche spicciolo. 4757 interventi erogati, 752 persone incontrate, 184 giorni di apertura al pubblico, 3 ore al giorno, 4100 ore di volontariato. E in tutto questo a dare una mano 40 volontari dal cuore d'oro, aggiungerei. Insomma, questa è un po' la fotografia della solidarietà a Fano. Fano che è già pronta per il 2020, dicevamo tutti gli eventi in programma, anche il resto del Carlino giustamente riferisce di questa conferenza stampa. Poi al cimitero dell'Ulivo l'assessore minimizza, dice solo allagamenti, la Lega invece parla di roba da terzo mondo. non mi risultano situazioni di degrado, ma esiste un problema riguardo gli allagamenti, la cui soluzione è molto complessa e costosa, dice Fabiola Tonelli, che è assessore ai lavori pubblici del Comune di Fano. Velocemente siamo in chiusura, la ruota Ricci gioca, il Giolli arriva a largo Aldomoro, dopo il no della sovrintendenza Piazzale Matteotti, il sindaco trova un'altra collocazione, ma un'attrazione che porta clienti, ma anche disagi, perché per i parcheggi sarà il caos, con marcianti spiazzati il gestore però tranquillizza, sarà un successo come a Gatteo. E poi c'è il racconto, a proposito di truffe, di una stangata al rovescio. Ora non sto a raccontarvi come funziona, però se avete in mente di vendere qualche cosa attraverso internet e dovete contrattare con l'acquirente o il possibile acquirente decidere come farvi pagare, forse quest'articolo potrà interessarvi per non cadere in truffa. Valcesano si anima per il Natale, tra mercatini, spettacoli e gusto, e poi questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, l'edizione di oggi, e poi questa invece è la prima pagina del resto del Carlino, con in primo piano la notizia di cronaca sulla circonvenzione di cui è accusato un poliziotto insieme alla moglie, circonvenzione di incapace, un poliziotto che insieme alla moglie è accusato in concorso di aver ingannato un'anziana, prelevandole dal conto 50 mila euro. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro buona giornata, vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale, occhio alla notizia alle 20.30, e questo è il numero per le vostre segnalazioni, poi se il nostro regista Riccardo mi aiuta, per dirvi che lunedì il primo cittadino, alle 20.50 circa, dopo il telegiornale, sarà con ospite il sindaco di Fermignano, quindi tutti gli amici che ci seguono da Fermignano, si organizzino per preparare domande e quant'altro, perché c'è il loro sindaco lunedì qua in diretta su Farno TV. Arrivederci.